Oggi il Bari purtroppo non è stato in grado di fare quello che ci eravamo detti di provare a fare, soprattutto nel primo tempo in cui gli avversari hanno fatto sicuramente molto meglio di noi e il punteggio l'ha testimoniato perché siamo andati all'intervallo sotto di due gol. Nella ripresa abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, abbiamo accorciato le distanze, abbiamo creato i presupposti anche per provare a rimettere in piedi una partita in parte compromessa con una prima frazione brutta da parte nostra e poi il terzo gol ci ha definitivamente tagliato le gambe e ha consegnato i tre punti a una squadra che sicuramente oggi l'ha meritata di più di noi. La squadra non è stata in grado di fare quello che avremmo dovuto fare ed è un peccato grande. Mi auguro che possa essere un bel insegnamento per il futuro. Diventa difficile avere un rendimento costante come lo abbiamo avuto in casa. Sicuramente abbiamo fatto le prestazioni importanti, abbiamo ottenuto i risultati, ne avremmo potuti ottenere altri. Però credo che l'atteggiamento della squadra è sempre stato un atteggiamento propositivo e voglioso di ottenere risultati, come purtroppo non è stato oggi nel primo tempo perché l'abbiamo completamente regalato agli avversari e poi abbiamo avuto poco tempo a disposizione per rimetterla in piedi e purtroppo usciamo sconfitti, credo meritatamente, da questo campo. Abbiamo tempo per capire bene quelle che possono essere state motivazioni, però sicuramente questo deve essere per noi un grande insegnamento perché in questo campionato non ci si può permettere di regalare tanti minuti come noi oggi abbiamo fatto su questo campo. Credo che l'atteggiamento della squadra, al di là degli interpreti, è importante per provare ad ottenere dei risultati e l'atteggiamento della squadra, al di là degli interpreti che erano in campo, sicuramente non è stato positivo nel primo tempo. Sicuramente a Palermo mi regano dei ricordi importanti, però ora facciamo altro e abbiamo davanti una sfida difficile da preparare nel modo giusto e da riuscire a svolgere sicuramente in maniera diversa come abbiamo svolto questo primo tempo e provando a fare quello che abitualmente sappiamo fare.